Nella nostra città è stato un anno difficile, un anno duro, però anche un anno pieno di novità e intenso di prospettive. Napoli è una città viva, una città che non smette di amare, che ha un cuore grande e lo ha soprattutto nei momenti difficili. La solidarietà nella nostra città è aumentata in queste settimane, in questi mesi, quindi è un momento di crisi, è un momento difficile, ma come in tutti i momenti di crisi vengono fuori le persone, il cuore, le passioni, le emozioni, la profondità dei sentimenti, le radici, quindi credo che Napoli è una città viva anche in questo Natale difficile. Io da sindaco di Napoli auguro a tutti i napoletani un Natale quanto più sereno è possibile, un Natale di amore, un Natale di fratellanza e di tante speranze. Io sono certo che per Napoli ci sarà un grande futuro, per il Sud, per quei popoli che hanno sofferenze profonde ma intensità grandi, quindi sono assolutamente fiducioso che il lavoro enorme che abbiamo messo in campo e che stiamo mettendo in campo 18-20 ore al giorno darà frutti importanti per tutti, soprattutto per chi soffre, soprattutto per i nostri figli, per i più giovani, per chi è in difficoltà. Napoli sarà protagonista nei prossimi mesi nel panorama politico nazionale, Napoli deve contare, Napoli deve essere rispettata, Napoli deve essere amata. Io da sindaco lo amo ancora di più perché ne vedo ogni giorno tanti problemi e più ci sono i problemi, più le sofferenze, più aumenta l'amore, quindi veramente con il cure che vi auguro a tutti voi un Natale sereno e un Natale il più spensierato possibile.